saluto ragazzi sono mattex e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra creatore coludinese qui su fc24 vi devo chiedere scusa per l'assenza del video di mercoledì purtroppo tra impegni vari non sono riuscito più a registrare comunque nel caso trovate il mio gruppo telegram e il profilo instagram qui sotto in descrizione per qualsiasi aggiornamento di tipo sia della programmazione ma anche di video e quant'altro nel gruppo telegram inoltre parliamo anche di carriera foot calcio reale tante tante altre cose quindi mi raccomando fateci un salto riprendiamo da dove c'eravamo lasciati quindi con il mese di dicembre da concludersi in vista poi del calcio mercato di gennaio abbiamo il como in coppa italia poi inter sassuolo torino e bologna in campionato tra l'altro nei commenti dello scorso episodio mi avete lasciato anche alcuni suggerimenti per i nuovi nuovi acquisti per possibili innesti del nostro udinese lo ha messo in lista preferiti quindi mi raccomando continuate così perché ci servono assolutamente dei rinforzi soprattutto in difesa a centrocampo per adesso terrei così uno dei possibili partenti secondo me è l'ovric nel senso che per era alcuni di voi lo vorrebbero fuori da udine però secondo me è un ottimo è un ottimo giocatore sì che ha 32 anni ma secondo me almeno questa stagione la può fare tranquillamente la prossima magari da giocatore di riserva wallace pian piano sta prendendo posizioni al centrocampo sta facendo molto bene mi è piaciuto parecchio quindi lo teniamo abbiamo anche paiero e zarraga lì in più che non fanno non fanno assolutamente male mi piacerebbe a questo punto provare a cedere l'ovric perché è veramente troppo lento non mi sta non mi sta entusiasmando magari investire lì magari prendendo un centrocampista in più magari tenendoci wallace per i dattitolari per quest'anno e avere più budget magari per un difensore in più questo intanto per i più curiosi e la formazione della como un 4-4-2 contenimento con idea della tattica contropiede assolutamente senso per una squadra che pronta a ripartire con tra l'altro anche qualche giocatore molto interessante vediamo anche in panchina verdi e da cugna ad esempio davanti l'attacco un po lento con cerri e cutrone però molto 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 fisico andrei di simulazione veloce con la squadra turnover vinciamo 2 a 1 segnano paiero e davis tra l'altro l'abbiamo passati in svantaggio con i gol di bellemo per il per il como bene ci portiamo a casa la qualificazione al prossimo turno questo alla fine è quello che più ci più ci interessava non volevamo neanche far stancare troppo i nostri i nostri giocatori anche perché ci attende la partita con l'inter tra l'altro a proposito di partite due spostate che potrebbe già esserci la coppa italia ragazzi rimane messo in squadra wallace figurati ci mancherebbe vera estazione autorevole e se le aveva chiesto di giocare noi abbiamo fatto giocare coppa italia che non spunta a dicembre ma a gennaio avremo la sfida contro la ternana nella nel turno 3 poi ci sono queste queste altre partite ferral pisalo pisa bari frosinone ascoli palermo torino lecco sassuolo cremonese cagliari bologna e su tirol cosenza attualmente la classifica ci vede settimi con 25 punti al pari della fiorentina attualmente sesta a meno uno dall'atlanta 26 attualmente quinta però noi abbiamo una partita in meno rispetto ai bergamaschi contro l'inter contro l'inter che la prima in classifica 36 punti totali 11 vittorie 3 pareggi sembrano infermabili vedremo se riuscirà il nostro ordinese a creare qualcosa più che altro cercherei di non prendere un'imbarcata poi se facciamo comunque una buona prestazione ma andiamo a perdere questo sarà sarà poi da vedere però almeno non prenderne 5 a 6 eh dai questo è l'inter figura tra l'altro tra remi in in panchina sommer tra i pali bastoni darmiana cervi in difesa agume barella frattesi al centrocampo carlos augusto sulla sinistra quadrado sulla destra davanti turam e lautaro idea tattica ovviamente gioco sulle ali perché hanno due ali molto alte molto veloci e quindi cercano di sfruttarle al meglio formazione non al 100 per cento un pochettino più stanca rispetto al solito comunque schieriamo silvestri tra i pali masina perez bijoli in difesa lovric e zarraga i due di centrocampo con toven e savarino sulle fasce per eira sulla tre quarti davanti deulofeu un pochettino più arretrato e brenner l'attacco regge l'attacco molto forte deulofeu un pochettino più arretrato fa un più tre quindi speriamo che riesca assolutamente a far bene ci giochiamo tutto contro questa inter molto forte consci del fatto che potremmo fare fatica san siro è sold out per inter contro di nese il saluto tra i due capitani si parte comincia turam questo match scaricare dietro per lautaro buona partita va frattesi subito calciare silvestri c'è palla in mezzo silvestri qui doveva fermarla silvestri in due tempi ancora al pugno lautaro da solo 1-0 inter qui erroraccio di silvestri anzi doppio errore del portiere dell'udinese non ci sono tanti uomini a supporto dell'attacco poi savarino si infine in qualche modo palla buona per deulofeu il tocco per toven summer lautaro spazio poi barella salta l'uomo barella 2-0 inter la piazza lì nell'angolino alto sapevamo che sarebbe stata una squadra difficile e forte da affrontare 2-0 la varina in mezzo deulofeu l'appoggia summer lautaro subito a calciare c'era anche quadrado in mezzo da solo preferito calciare perez gran palla per deulofeu contro bastoni e superarlo in qualche modo forse con un tocco poi pereira summer savarino non ci arriva spazza quadrado pereira palla corta per deulofeu poi ancora pereira in mezzo verso brenner fuori cerbi frattesi carlos augusto va a metterlo in mezzo ma se no non ci arriva lautaro martinez 3-0 l'inter calaltris all'ottantacinquesimo prossimo in mezzo verso acerbi silvestri vola finisce qui inter 3 udinese 0 patiamo tanto l'attacco soprattutto dell'inter però bella partita nel senso che comunque abbiamo giocato bene abbiamo creato abbiamo creato non tantissimo ma abbiamo creato dispiace perché un gol gliel'ha regalato silvestri l'altro la coppia silvestri masina quindi ovviamente non gioca a nostro favore però abbiamo fatto bene secondo me soprattutto nel secondo tempo anche dati alla mar abbiamo fatto 9 tiri loro 7 noi il catarra vuole ingaggiarci come allenatore ma rifiutiamo come dicevo aspetterei giusto giusto l'italia però allora noi attualmente abbiamo 25 punti il sassuolo 18 io questa col sassuolo andrei a giocare per provare a riscattarci dopo la partita con l'inter conscia appunto del fatto che puntiamo alla metà classifica magari un posto in zona in zona europa secondo me potrebbe servire una difesa 4 però pensiamo ci vediamo questo è il sassuolo con un 4-3-3 consigli e boss eviti Pedersen e Vigna in difesa Rascic, Obiang e Matteo Serica a centrocampo l'oriente è Pinamonti e Berardi in attacco l'idea tattica è un tiki-taka quindi basato tanto sul possesso palla giocatori offensivi chiave Berardi e l'oriente è in difesa il buon Pedersen tra l'altro nostra vecchia conoscenza al Feyenoord per la partita di oggi proverei una difesa 4 molto abbozzata con Zemura e Ferreira come terzini però potrebbe essere interessante perché comunque i due centrali forti li avremmo già con Perez e Bijola avremo VTIC da riserva che sta crescendo molto bene l'unica cosa è che il mercato dovrà essere incentrato ovviamente sull'acquisto di almeno ma proprio almeno 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 due terzini quindi vediamo, cerchiamo di capire un po' come funziona questo modulo con quattro difensori comunque Zemura, Perez, Bijola e Ferreira in difesa Pereira, Wallace, Tovenev, Savarino a centrocampo Samardic sulla tre quarti davanti Brenner mi porto in panchina Pafundi, Deulofeu, Lovric e Bossele, Ake, VTIC e Padelli arriva il fischio d'inizio, comincia Udinese contro Sassuolo un buon test quest'oggi per i bianconeri in prova con una difesa 4 vedremo se reggerà il colpo, vedremo l'attacco a 1 anche se sarà buono e positivo ci sono tante cose da scoprire quest'oggi buona partita Vigna, bravo Toven a recuperare questo pallone, adesso può ripartire l'Udinese campo aperto per Toven, poi in mezzo Brenner, va da solo il francese ancora Toven, recuperato da Vigna, ma Toven tiene il pallone in mezzo Brenner, consigli in due tempi Ferreira, buono lo sguardo verso Toven e Bosse è superato Toven, sguardo in mezzo perché da solo, Toven, tutto lui Toven, sul primo palo il François, Toven, 1-0 rossi in mezzo, Pinamonti stacca di testa trova l'1-1 prende attenzione in mezzo, palla passa Pinamonti, Silvestri si allunga poi Rasic, Bijol Samarzic Zemmoura viene recuperato superato, sbaglia qui in difesa Rasic, poi sguardo in mezzo Pinamonti, Perez Berardi vola Silvestri per mettere in calcio d'angolo Pinamonti va a calciare d'esterno si fa trovare pronto Silvestri e può servire Deulofeu da solo Deulofeu contro le bosse Deulofeu, Deulofeu fuori Berardi quasi zona tiro, per ira su di lui Matteus Enrique si libera Berardi 1-2 il gol del Sassuolo alla fine arriva e segna il capitano finisce qui Udinese 1 Sassuolo 2 arriva purtroppo un'altra sconfitta dopo quella contro l'Inter quella con l'Inter sicuramente più più plausibile oggi oggi meno riusciamo a creare poco riusciamo a far poco dobbiamo secondo me rivedere un pochettino questo modulo può essere interessante servono però gli interpreti giusti perché Zemura patisce tantissimo come terzino Ferrera non se l'è cavata male Ferrera non se l'è cavata male ma sì che c'era Berardi di qua però non non possiamo farci superare così possibile cambio di ruolo per Alvarado che passa dalla sinistra trequartista non fa upgrade tocca rialzarci in qualche modo questo gioco contro il Torino Milinkovic-Savic tra i pali Sazonov buongiorno e Scurz in difesa Ilic Kramaric a centrocampo il Chucky con Afif Vlasic e Karamo davanti con Tuan Zapata in attacco via tattico ovviamente quella del gioco sulle ali noi siamo passati invece al Gagan Pressing anche nel modulo con la difesa 4 per quanto mi faccia male vedere Bossel e terzino destro attualmente non abbiamo troppi troppi sostituti quindi su quel ruolo Silvestri tra i pali Perez Bigiol Bossele e Zemura in difesa Pereira Wallace a centrocampo Samarzic Savarino e Toven dietro all'unica punta attualmente Brenner anche se metterei Deulofeu secondo me può fare già un pochettino meglio ho modificato un po' di istruzioni tante cose sono sono cambiate ho messo Svaria ad entrambi ad entrambi gli esterni ho messo l'esterno attacco per quanto riguarda i terzini copertura al centro per i nostri due centrocampisti la tattica è questa con il gegenpressing pressing una volta pressata la palla 55-60 manovra veloce passaggi diretti e 65 di ampiezza vediamo se questo modulo funziona un pochettino di più secondo me già meglio rispetto alla scorsa difesa 4 speriamo speriamo di di riuscire oggi a fare un pochettino meglio stadio olimpico di Torino per questo nuovo match di Serie A oggi ripartiamo con una difesa 4 con più che altro nuove tattiche proprio su su questo modulo anche lo schieramento è un pochettino diverso rispetto alla partita contro il Sassuolo vedremo cosa saranno capaci i nostri quest'oggi intanto fallo di Zapata cartellino giallo quindi Pereira sguardo al centro pafundi di testa Melenkovic Savic Savarino tutto bene Deulofeu da fuori Melenkovic Savic ancora una volta attenzione alla ripartenza del Torino Vlasic sguardo in mezzo Vlasic Perec ha tolto palla ha tolto palla piena Perec calcio di rigore ha tolto palla calcio di rigore Silvestri contro Kramaric prova Silvestri Kramaric palo pafundi su Karamov Vlasic Silvestri Zapata e Bossele pafundi il tocco sotto gran palla Deulofeu aggancia Melenkovic Savic pafundi spazio davanti a sé gran palla per Deulofeu poi tacco Toven Vania Melenkovic Savic Karamo salta tutti in mezzo Zapata Silvestri il duello continuo tra i due pafundi in mezzo per Deulofeu gran palla Deulofeu contro Vagna Deulofeu palo gol Ludinese passa in avanti dopo un grandissimo secondo tempo gran palla di pafundi per Deulofeu 1-0 Pereira praticamente la ridà il Torino Vlasic Silvestri si allunga poi Bossele deve spazzarla via pafundi torna ancora al Torino bravo Toven poi Wallace possibile ripartenza dell'Udinese con Deulofeu che apre per Ebosele molto veloce lui Ebosele sguardo in mezzo c'è Deulofeu ancora Ebosele da solo Ebosele Deulofeu 0-2 Melenkovic aveva ancora messo lì la firma su questa parata ma era questa l'intenzione dell'Udinese far tornare il pallone tra i piedi dell'attaccante eccolo qui tuc palla fuori e finisce qui Torino 0 Udinese 2 allora secondo me poteva andare meglio nel senso che primo tempo abbiamo patito veramente tanto non riusciamo a creare secondo me quanto lo facciamo con un attacco a 2 perché non so forse non siamo abituati forse non abbiamo ancora gli interpreti perfettamente giusti per questo modulo però bene però bene perché il secondo tempo è stato molto positivo abbiamo creato tanto abbiamo sfruttato abbiamo sfruttato le fasce sicuramente Bossele da terzino fa bene perché comunque è un ottimo giocatore ma lui è molto più un esterno rispetto ad un ad un terzino preferirei Deulofeu in avanti anche appunto lì perché è un attaccante perde un po' di punti come ATT ma vediamo come proseguila Zaraga arrabbiatissimo mister sarò franco però lui è Oier ma vabbè è diventato franco il poco spazio che mi sto concedendo sta danneggiando la mia carriera vorrei essere ceduto per giocare di più la prego di accontentarmi esperienza formativa ma no Zaraga magari facciamolo giocare col Bologna magari lo facciamo giocare col Bologna allora Maric Morrow e Papadopoulos Morrow arrivederci Maric saluti e baci Papadopoulos saluti e baci arrivederci proviamo la simulazione veloce con questa formazione qui sempre difesa 4 sempre centrocampo a 5 con success invece in avanti simulazione veloce portiamoci a casa un risultato arriva un pareggio esce Zaraga al 45esimo molto scontento immagino però peccato potremmo forse fare qualcosina in più siamo ottavi con 29 punti molto vicini comunque alla zona alla zona Europa Lucca ma tanto Lucca ci saluta ragazzi Lucca richiamato come appunto accennavo invece Christensen in presito valutiamolo poi se recuperarlo oppure no offerta per Bijol dalla Juventus 3 resoconti quindi attenzione Portogallo assolutamente no solamente giocatori da cacciare Raffaele Nieto saluti e arrivederci altro aggiornamento invece dall'Italia se non sbaglio vediamo se c'è qualche giocatore degno di giocare a pallone Emiliano Gallo dovrebbe rivelarsi interessante il resto abbastanza niente un po' deluso da questi rosservatori un po' deluso l'offerta per Bijol potrebbe aprirci un calciomercato incredibile perché comunque arriverebbero mettiamo una media di 20 milioni di 20-22 milioni potrebbe aprirci il mercato sul fronte terzini però Bijol mi piace però Bijol mi piace mi piace parecchio mi sarei un po' indeciso sarei un po' indeciso pensiamoci riflettiamoci riflettiamoci assieme fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti io da una parte lo cederei per far mercato perché comunque attualmente abbiamo 13 milioni magari un paio di terzini forse riusciremo anche a prenderli però riuscissimo ad investire un pochettino di più non sarebbe male siamo a 29 punti siamo a due lunghezze dalla dall'Atalanta e dalla Fiorentina attualmente quinta e sesta lo Roma davanti a noi con 30 punti noi facciamo molto bene in attacco perché comunque segniamo 29 gol non sono fatto male però però ne subiamo 29 dobbiamo sicuramente sofferire un pochettino questa cosa soprattutto con le grandi la prossima partita sarà tra l'altro con la Lazio naturalmente seconda con 40 punti cerchiamo di far poi meglio cerchiamo poi di far meglio magari con una difesa 4 riusciamo ad arginare anche un pochettino di più quella che è la la trazione offensiva delle squadre avversarie Lazio Ternana Fiorentina e Milan sicuramente nel nel prossimo episodio magari lasciamo l'Atalanta per l'episodio dopo così poi chiudiamo il calciomercato ci portiamo con Monza Juventus eccetera eccetera potremmo anche valutare di non cedere di non cedere il buon il buon il buon il buon Bijol ma salutare Zarraga perché lui non vuole rimanere è molto scontento super abbattuto a me dispiace però stesso overall c'è anche Paiero lui è contento quindi vediamo Zarraga oltretutto potrebbe fruttarci un 8 milioni tra l'altro Ferreira diventa terzino destro molto facilmente potremmo valutare eventualmente se dovesse fare un piccolo upgrade magari 70 71 di portarcelo direttamente a casa nel senso che lui ha il Watford attualmente vale 2 milioni e 7 potrebbe essere già un un ottimo innesto ragazzi pensiamoci fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti mi raccomando gruppo telegram e profilo instagram per essere ragionati su tutto quanto riguarda il canale nel prossimo episodio inizierà quindi il calcio mercato fatevi sotto con i nomi con i suggerimenti con le vostre idee tattiche anche per la nostra squadra mi raccomando sempre in maniera paccata nel senso che critiche costruttive le accetto sempre le critiche un pochino più offensive non le guardo troppo e anzi tendo proprio a non considerarle proprio quindi mi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate noi ci vediamo alla prossima sempre qui sul mio canale con un nuovo episodio dell'udinese e presto ulteriori contenuti con altri youtubers ma anche di contenuti personali challenge possibili possibili di partenza quando alcune squadre un po' in difficoltà ma di questo ne parleremo assolutamente nei prossimi giorni nelle prossime settimane un bacione un salutone sempre qui sul mio canale ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.